Si prevede un inverno freddo per le popolazioni delle aree interne montane abruzzesi a causa della faraginosità delle procedure per il rilascio del nulla osta per i tagli boschivi e i prezzi della legna sono destinati ad aumentare. Il presidente dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Pescara Paolo Sonni lancia un appello alla regione e chiede che siano i tecnici esperti ad occuparsi della Vinca, la valutazione di incidenza ambientale che è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000. Il problema è che c'è stato un blocco dei tagli boschivi dovuto a delle procedure previste a livello nazionale e comunitario ma delle procedure per la salvaguardia dell'ambiente naturalmente le cosiddette Vinca e le valutazioni di incidenza che hanno bloccato i tagli boschivi e questo è previsto dappertutto in ogni regione solo che la procedura poi viene rimpallata perché c'è un tempo di 30 giorni altri 30 giorni per altre procedure altre per cui per avere poi un nulla osta finale per la concessione, per l'autorizzazione al taglio che arriverà in un momento in cui i tagli non si potranno più effettuare per l'arrivo della stagione autunnale, invernale e di conseguenza lì automaticamente come si potrà fare poi? come si potranno fare i tagli con l'arrivo della neve? In nulla osta non esiste una commissione costituita da tecnici che danno l'ok come per esempio è parallelamente nella commissione cave per la gestione delle cave sempre a livello regionale. Qui non esiste una commissione ma vengono interpellati dei soggetti dotati di una coscienza ambientalista, lo siamo anche noi perché siamo dottori agronomi e dottori forestali, ma ed è giusto ma con competenze tecniche che non esistono. Questo blocca anche le attività dei comuni titolari dei terreni di uso civico con una serie di ritardi anche per le attività professionali dei dottori agronomi forestali che hanno iniziato dei progetti e sono bloccati.